In questo video ti suggerisco un piccolo trucco per rimuovere i residui di colla lasciati da nastri e da frisket film. Sollevando il nastro potresti avere situazioni di questo genere. Quando la superficie lo consentirà prendi del normalissimo nastro carta, strappane un pezzettino, incollalo sopra a residuo di colla e strofina bene. Quando tu andrai a sollevare, se siamo fortunati, la colla sarà venuta via. Se la colla si fosse depositata su una parte del disegno aerografato, controlla che il tuo nastro carta non sia troppo aggressivo e se la base sotto è buona, probabilmente riuscirai a risolvere anche sul disegno senza rovinare i colori. Sono certo che questo video ti sarà utile. Alla prossima, ciao!